Sono esasperati i cittadini che risiedono nella zona industriale di Bellocchi e in particolare chi abita nelle vicinanze della ditta Profiglas. Infatti l'incendio divampato mercoledì sera nella zona denominata Colle 03 ha risollevato polemiche che vanno avanti da anni. I residenti continuano a chiedere che venga tutelata la loro salute perché non si sentono al sicuro. E noi questa mattina ci siamo recati in via Papiria dove alcune persone ci hanno mostrato le conseguenze dell'ultimo rugo. C'è chi si è svegliato trovando l'auto puntinata di nero, chi ha trovato residui di materiale incendiato nel proprio giardino, nel campo agricolo e chi per sicurezza nella notte ha preferito portare altrove i propri figli. Perché ha trovato questa roba questa intorno a casa, è roba tossica. Io penso che sia roba tossica perché non è che era roba... non so. Il fumo è arrivato fino a queste cose? Era una cosa fuori, era di notte, una cosa che è tremenda, fiamme alte 30-40-50 metri. Eravate svegli quando è successo l'incendio? Io mi sono accorto dopo, verso le 11-11 e mezzo, dopo io mi sono svegliato era a mezzanotte, sentivo la polizia qui davanti a casa, ma què? C'erano loro, c'era una grande fumaria nera, andava giù, dappertutto insomma, era sparsa. E mi diceva che anche i vicini di casa hanno ritrovato gli stessi pezzi in giardino. Allora, quindi la vicina di casa ha detto, sei alzata, ma què tutta questa roba nera giù per la strada? Ma voi siete un po' preoccupati per la vostra salute, per la possibilità che queste sostanze siano tossiche? Non un po', tanto. Perché queste cose queste, già è tre volte che prendo fuoco, non è una volta. Dai oggi, dai domani, il rumore, la roba tossica, siamo proprio in mezzo, noi due, davanti a casa. Come facciamo? In fondo, là giù va, ancora si vede i pezzi neri. Ecco, questo qua, eccolo, un altro, eccolo qui. Ce ne sono decine praticamente nel suo terreno. In fondo, là. Nell'abitazione invece o nel giardino li ha ritrovati? Sulle scale c'è tutte macchie nere. Eccolo qua. Questo è un altro. Vi siete barricati dentro, addirittura mi diceva che cercava di tappare anche tutti i buchetti nella porta. Con tutti gli stracci, tutti i portoni più possibili abbiamo tappato. Loro di sopra, si vede essendo più alto, che il fumo passava proprio lì, gli filtrava ancora di più. E insomma loro puretti hanno fatto, noi andiamo via, venite via con noi che qui non si resiste più. E insomma non si può vivere così. È sua figlia la ragazza? Ha deciso di portare via le bambine questa notte? Sì, è andata via a dormire dalla suocera che adesso manca da casa, c'è la casa libera, è andata laggiù. Però non puoi vivere con la paura così. Ma noi da quant'è che gli diciamo? Questa fabbrica al giorno emette un gas, in continuazione emette questo gas. Tutti i giorni c'è una puzza quando c'è il vento di qua. Nessuno ci crede o fa finta di non credere. Hanno stufato sta roba, hanno stufato. È attaccato a casa nostra, a 20 metri da casa. Cosa dobbiamo fare? Io non so più cosa dire, guardi, le dico questo. Io ho paura per le mie bambine, per le mie nipoti. Guardi. La signora poi ci ha accolti in casa per raccontare nel dettaglio quei momenti vissuti con tanta preoccupazione. Filtravo un bel po'. Mi diceva che comunque anche la vostra casa si è svalutata economicamente. Come no? Come non si è svalutata? Ma guardi, io so delle cose che non posso neanche parlare un bel po'. Guardi, le dico questo. Però io le dico che sta a casa, adesso per il momento se tu la vendi, ti dici, chi ci viene a stare in questa casa qui? E ma noi abbiamo pagato il mutuo fino adesso, sa? La gente che non capisco perché dice, parla così. Perché avete fatto la casa lì? Come abbiamo fatto la casa lì noi? Noi eravamo da qui da più di 60 anni. Come abbiamo fatto la casa qui? Lui, io voglio sapere lui, le persone più intelligenti di me che gli hanno dato i permessi di fare la fabbrica davanti alle case così vicine. Guardi, non se ne può più. Ma signora lo sa che lui dal lavoro aveva fanno? Va bene, io allora devo morire per far campare gli altri. Ma a me mi ci hanno trovato ragazzi. Non sono disposta a morire per dare il lavoro agli altri. Io voglio che lavorano, ma non in questa maniera. Punto. Non c'ho più niente da dire.